Il sindaco De Caro ha mantenuto fede all'impegno preso con quelle famiglie che, fino a qualche giorno fa, avevano manifestato davanti al palazzo di città per chiedere un sostegno per la casa. Il comune anticiperà fondi che sono stati messi a disposizione della regione. In totale saranno distribuiti oltre 2 milioni e 200 mila euro, di cui 260 mila di contributo comunale. Nella graduatoria generale sono 4.400, i nuclei familiari aventi diritto rispetto alle 5.000 domande pervenute. L'importo medio dell'assegno sarà di 530 euro, ma gli interventi sul fronte dell'emergenza abitativa nel capoluogo non si fermano solo all'erogazione di contributi economici. Nei giorni scorsi è stato fatto il punto anche sugli immobili da destinare ad alloggi sociali. Sono 15 al San Paolo, già pronti in via Ferrari, 36 in fase di realizzazione in zona Stanice e via Bruno Buozzi. Più corposo è il numero di appartamenti in costruzione a Sant'Anna, sono 112. 42 a Carbonara, dove i lavori sono appena cominciati. Per i 40 appartamenti nel quartiere San Pio i lavori sono stati aggiudicati. Entro un paio d'anni saranno a disposizione complessivamente 245 case, ma in regime di edilizia agevolata se ne potranno realizzare altre 150. La regione erogherà un finanziamento al Comune e allo IACP per il recupero di immobili che potranno essere messi a disposizione alle famiglie più bisognose. Il Comune si è impegnato inoltre a individuare alloggi o immobili da trasformare per avviare con l'Istituto Autonomo l'housing sociale con fitti a canone concordato, a circa 160 euro per abitazione di 80 metri quadrati. Tutti gli interventi che si è attuati potrebbero dare un tetto a 400 dalle 2000 persone attualmente in graduatoria.